E di nuovo, fratelli bianconeri e non, secondo video perché dobbiamo parlare ovviamente delle pagelle, fare le nostre solite pagellasse che anche oggi non mi sembrano particolarmente difficili da fare e quindi le vado ad elencare. Allora Scezni, io a Scezni gli ho dato sei, partita secondo me da ordinaria amministrazione, nulla di più, niente di particolare da segnalare. Il gol, sul gol non ci poteva fare nulla, non è colpa sua. Per il resto veramente Cagliari che non lo ha impegnato. Quadrado, io a Quadrado gli ho dato un sei risicato, sempre grande cuore di Joan, non è stata a mio parere una delle sue migliori prestazioni, a mio parere sicuramente buona ma non eccelsa. Quadrado gli do la sufficienza però ho visto anche Quadrado migliori, sinceramente. Andiamo avanti con De Ligt. Io a De Ligt ho dato sei, sufficienza, però anche lui quando non ha, diciamo così, oggi soprattutto, non ha avuto una guida, l'ho visto in un paio di occasioni perdersi un tantino, francamente. Giocatore che per carità non è assolutamente discutibile, la sufficienza lui la prende praticamente sempre perché non delude mai. Oggi in un paio di occasioni non mi è piaciuto particolarmente, ma per il resto zero critiche. Dunque Chiellini, io a Chiellini ho dato sei e mezzo, secondo me giocato bene. Il problema di Giorgio lo sappiamo qual è, comincia a essere troppo vecchio e comincia a avere un po' troppi acciacchi per sperare anche la prossima stagione di avere un posto al sole. Se avesse cinque anni di meno sicuramente sarebbe un titolare inamovibile di questa squadra, ma anche oggi forse l'ha dimostrato. Allora, Alessandro, a me non è particolarmente piaciuto. Devo dire che mi esordisco con un 5,5. L'ho visto qualche volta in affanno, poi ha avuto un altro problema. Anche questo è un altro giocatore, secondo me, da cedere perché comincia a averne un po' troppi di problemi e di acciacchi. Diciamo che il Cagliari, soprattutto quello del primo tempo, avrebbe meritato un Alessandro migliore. Chiesa gli ho dato sei e mezzo, sempre uno dei migliori in campo. Quando va via in velocità e anche oggi qualche volta il Cagliari gli ha fatto vedere i sorci verdi. Non delude praticamente mai, sicuramente uno di quei giocatori, insieme a De Ligt, insieme a qualche altro da cui ripartire dall'anno prossimo, perché bisogna ripartire dai giocatori come Chiesa. Oggi gli è mancato il gol, ma ha fatto un assist per Ronaldo che è tutto dire. Io a Danilo ho dato sette e mezzo. A me è piaciuto moltissimo in una posizione che io non gli avevo mai visto fare. Non sapevo che potesse giocare anche in questo ruolo, ma è un giocatore che veramente, a parte l'anno scorso, quest'anno mi sta veramente impressionando. Davvero molto, molto, molto bravo. Peccato, siamo sempre lì, peccato che dobbiamo vedere questi giocatori solo nel campionato italiano, ma oggi da parte mia Danilo merita veramente un apprezzamento importante. Rabiot, sei e mezzo, gli ho dato. Questo giocatore, anche questo, è un altro di quelli che ha enormemente migliorato, enormemente. Direi, secondo me, una stagione, nonostante l'eliminazione, da sicuramente una stagione positiva per Adrian, che sicuramente ha rimesso in piedi un po' quel giocatore che negli ultimi due anni, almeno prima di arrivare alla Juventus, era completamente sparito. Kulusevski, non so, io non voglio essere troppo cattivo con questo ragazzo, ma spero che l'anno prossimo sia un po' più presente. Attualmente, secondo me, è realmente un fantasma e anche con il Cagliari oggi lo ha ampiamente dimostrato. Morata, 5. Oggi credo che Morata abbia sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, forse anche di più. Ha sbagliato gli appoggia, ha sbagliato due gol davanti alla porta, già fatti. Non ci siamo. O si deve ancora riprendere, non lo so qual è il problema, ma oggi direi ampiamente bocciato. Ronaldo, 8, perché io credo che un giocatore come Ronaldo tu non gli possa chiedere di più. In mezz'ora fa sé col Cagliari. Cagliari totalmente, non ha potuto praticamente opporre nulla il Cagliari, perché quando hai un giocatore in una forma strepitosa così non puoi dire nulla. L'unico appunto che faccio, lo faccio questa volta a nostro sfavore, nel senso che l'intervento su Cranio secondo me meritava il rosso. Opinione personale. Bernardeschi, 6, fa il suo. Bernardeschi deve cominciare ad autoconvincersi di fare il terzino sinistro. Secondo me ha il fisico, ha il tiro e ha il passo. Deve essere convinto lui però. Bonucci, McKennie, 6 e Frabotta e Arthur direi praticamente senza voto. Oggi mi voglio permettere di dare un voto anche all'arbitro, nel senso che secondo me perde almeno un voto e mezzo e quindi gli do 5 proprio per il fallo di Ronaldo. Quello è un fallo assolutamente da cartellino rosso. Oggi Ronaldo è stato perdonato dall'arbitro, ma oggi veramente non andava perdonato. Quello è un fallo da rosso, cioè senza neanche dover dir nulla. Non è Ronaldo il tipo che fa falli del genere, può capitare, non lo crocifigo nel modo più assoluto, ci mancherebbe altro, però il fallo resta e doveva essere espulso. E l'ultimo voto lo do ovviamente al nostro mister Pirlo, il quale presenta un Danilo in una posizione assolutamente inconsueta. Danilo che comunque se la cava, non dico bene, ma egregiamente, e non sbaglia l'approccio alla squadra. Non capisco perché la Juventus non debba sbagliare mai l'approccio una volta eliminata dalla Champions, ma anche nelle altre partite invece debba sbagliare. Quando si tratta soprattutto di Champions, sbagli sempre l'approccio. Quindi a Pirlo oggi do un 6,5, sia per l'approccio che la squadra messa in campo. Forse stiamo cominciando a vedere qualcosina a livello di gioco, ma ripeto, non mi faccio abbindolare da questo tipo di partite, perché per me questa partita ha valore per i tre punti in sé, ma per il resto, diciamola così, se prima le partite di campionato le intravedevo come allenamenti Champions, adesso le partite di campionato mi è rimasto da vederle come allenamento per la finale di Coppa Italia. Non è proprio la stessa cosa. Ciao a tutti.